Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata della serie di video interviste che stiamo organizzando con gli amici di Res Consulting in ambito educazione finanziaria per il mese dell'educazione finanziaria. E oggi iniziamo la nostra chiacchierata con due volti giovani dell'educazione finanziaria in Italia. Abbiamo con noi Clara Morelli, volto di TwoSense, progetto verticale di Will Media in collaborazione con Asso Gestioni che si occupa di parlare di finanza in parole molto concrete ai giovani d'oggi. E abbiamo Leonardo Capotosto che è il co-founder di Fannyfin, una startup innovativa verticale sull'educazione finanziaria e che ha come obiettivo quello di portare il benessere finanziario in azienda. Ma oggi di cosa parleremo? Oggi parleremo di giovani e finanza e quindi cercheremo di dare, come in tutte queste puntate, degli spunti pratici ai giovani che ci ascoltano e staremo molto molto concentrati nel capire che cos'è per un giovane la scelta tra essere un dipendente ed essere una partita IVA. Grazie al contributo di Clara e di Leonardo con cui ci faremo una bella chiacchierata, vediamo un pochino i pro e i contro innanzitutto di queste due opzioni che si pongono davanti ai giovani e partiamo da un presupposto. Quest'anno, finalmente, nelle scuole si parlerà di educazione finanziaria, ma fino ad oggi non si è mai fatto. Quindi un giovane che oggi termina i suoi studi e si affaccia al mondo del lavoro si trova di fronte innanzitutto a questa grande scelta. Come orientarsi? Cosa fare? Qual è il contratto migliore per me? Io sono Anna di Ciao Elsa e la mia startup si occupa in maniera molto verticale di pensioni, ma la pensione è l'ultimo punto di arrivo della nostra carriera lavorativa. All'inizio dobbiamo, prima di tutto, prendere questa scelta. Ci conviene fare una carriera da dipendenti o una carriera da partita IVA? E partiamo a vedere i pro e i contro con Clara delle partite IVA, cioè questo mondo dei freelance, perché ormai li chiamiamo così soprattutto a livello di generazione Z e generazione T, e vogliamo capire e dare un pochino di spunti appunto a chi ci ascolta per riuscire ad analizzare pro e contro di questa nuova situazione, di questa nuova condizione che spesso viene scelta, perché i dati ci dicono al 2023 che il 50% delle partite IVA sono under 35 e il 30% sono under 50, quindi ci sono tanti ragazzi che fanno questa scelta. Dall'altro lato poi vedremo con Leonardo i pro e contro di essere un dipendente, perché dall'altra parte c'è il governo che dà buone incentive ai datori di lavoro. Ma partiamo dalle partite IVA con Clara. Grazie Anna, ciao a tutti e grazie per l'invito. È un tema estremamente importante per le nuove generazioni per diversi motivi. Innanzitutto una persona giovane che si approccia per la prima volta al mondo del lavoro non ha spesso chiaro quali sono le differenze tra essere un freelance, essere una partita IVA e lavorare come dipendente, perché non c'è nessuno che te lo insegna, quindi è un po' un dover imparare facendolo e scontrandosi spesso con delle realtà che non si fanno troppi scrupoli a assumerti come finta partita IVA o assumerti come dipendente con contratti strani, quindi c'è poca consapevolezza di quelle che sono le differenze. Ora, spesso poi abbiamo parlato di scelta, ma spesso non è neanche una scelta. Mi spiego. Viviamo in un mondo del lavoro che comunque ha dovuto adattarsi a delle forme di lavoro molto flessibile. La flessibilità è certamente un vantaggio in alcuni contesti, ma può trasformarsi anche in delle situazioni al limite dello sfruttamento e chi ha più o meno la mia età lo sa molto bene perché magari ha appena iniziato a lavorare o lavora da pochi anni e quindi si è scontrato con un mondo in cui magari ti vengono offerti dei contratti che non sono proprio, secondo me, degni di essere chiamati dei contratti di lavoro. Mi interrompo un attimo per dire che spesso si parla dei giovani che non vogliono lavorare, ma voi avete una testimonianza concreta invece delle persone che vi raccontano cosa succede, quali sono poi le proposte anche di lavoro che hanno e quindi penso sia prezioso anche parlare di questo. Assolutamente. Gli ultimi dati dell'osservatorio sul precariato ci dicono che nel 2023 l'83% dei contratti di lavoro è durato meno di un mese e comunque larga parte questi contratti riguardano le persone anche molto giovani. La scelta se essere una partita IVA o meno, se fare il freelancer o fare dipendente? Allora, posto che, ammettiamo che anche tu possa avere questa scelta, innanzitutto bisogna considerare due cose, che in Italia, allo stato delle cose attuali, le partite IVA sono dal punto di vista fiscale incentivate, nel senso che tra il regime forfettario, la flat tax, l'IRPEF, che è la tassa principale che si paga se si è una persona fisica, viene anche chiamata tassa sul lavoro, è molto vantaggiosa, cioè se tu sei un lavoratore dipendente, ti viene applicata un IRPEF a scaglioni, quindi con scaglioni che arrivano fino al 43%, spoiler no perché non si guadagna mai così tanto. Sopra 50.000 euro, 43%. Se sei un dipendente, mentre per le partite IVA, fino all'86.000 euro di fatturato all'anno, si ha un diritto appunto a essere considerati come parte del regime forfettario e quindi viene applicata una liquota fissa al 15%, cioè su quell'86.000 euro di fatturato al massimo che tu fai come freelance, l'unica tassa che paghi è del 15% e c'è di più, per i primi 5 anni della tua attività si abbassa ulteriormente al 5%. Immaginatevi, a parte che ricevere uno stipendio lordo di 86.000 euro, tanta roba, ma... Però penso anche se fossero 30-40.000 euro, un dipendente mediamente si paga di... Un stipendio medio intorno ai 30-35.000 euro, ma già dopo il primo scaglione che è sui 28.000 euro, ora l'hanno riportato ai 23.000 perché c'è stato un cambio di aliquote, già arrivi a pagare il 23% di IRPEF e quindi è svantaggioso. Qual è il tema? Che sicuramente quindi c'è un vantaggio da un punto di vista fiscale, solo se arrivi a guadagnare una certa cifra. E questo è proprio di alcuni settori, ad esempio nel settore della consulenza, dove magari persone giovani iniziano a lavorare già dopo 2-3 anni, riescono a percepire uno stipendio abbastanza alto, stipendio anche se non lo è perché sei di fatto una finta partita IVA, a quel punto c'è anche l'argomentazione del mi conviene. Ed effettivamente è vero, cioè è inutile negarlo, no? Però allora a quel punto non c'è una riflessione sull'ok. Io sto avendo questo pro dal punto di vista fiscale, ma ho veramente quella flessibilità di cui godo una partita IVA? Spesso no, perché si è molto spesso una finta partita IVA, nel senso che si deve sottostare a degli orari che vengono stabiliti dal datore di lavoro, che non dovrebbe nemmeno chiamarsi datore di lavoro nel caso delle partite IVA, ma sarebbe il committente della tua prestazione, non puoi avere spesso altri clienti, cioè quando entri a far parte di uno studio di consulenti, ma anche architetti, ingegneri, avvocati, spesso ti fanno firmare degli accordi per cui tu non puoi avere altri clienti. Quindi capisci di essere una falsa partita IVA quando nonostante tu non sia dipendente, devi sottostare a tutte quelle restrizioni proprie del lavoro dipendente. E quindi è giusto riflettere sul fatto che mi conviene essere una partita IVA perché posso essere freelance. È anche positivo, no? Comunque magari tante persone giovani hanno un minimo di spirito imprenditoriale per cui vogliono lavorare a più progetti contemporaneamente. Non mi sento di dire che è una cosa negativa, però il fatto che noi abbiamo il primato in Europa di partite IVA, in Italia sono 5 milioni di lavoratori a partita IVA, che è un record per noi, ma anche a livello europeo siamo ampiamente sopra la media, fa riflettere sul fatto che c'è chiaramente un fenomeno di finte partite IVA che non stiamo vedendo. Nel caso dei consulenti, come dicevo, tutto sommato conviene anche a loro perché per i livelli di guadagni che vengono fatti a livello fiscale conviene. Già se andiamo in altre professioni, tipo gli architetti o gli avvocati, che per molto tempo, per i primi anni della carriera, guadagnano poco, e lì diventa un problema perché veramente... Sembra una fregatura, perché hai il contro di entrambe le cose, hai il contro di essere una finta partita IVA e hai il contro di essere un dipendente, nel senso che di fatto poi ti senti di essere in un contesto come fosse un lavoro dipendente, ma la retribuzione non... Esatto, magari ti viene offerta una retribuzione di 1200 euro al mese e tu pensi, ok, ma questi 1200 euro lordi, non è la stessa cosa dell'offerta che ti può fare un datore di lavoro con un contratto da lavoro dipendente, perché poi tu devi occuparti di pagarti da te i tuoi contributi, poi devi anche essere capace di gestire la liquidità, perché il modo in cui le partite IVA devono pagare imposte e contributi è diverso rispetto a quello dei dipendenti, l'anno successivo, dopo il primo anno di attività, ti ritrovi a pagare le imposte e i contributi dell'anno scorso e l'anticipo di quello successivo, quindi non bisogna sottovalutarla come condizione. In più, se sei una partita IVA, sei per definizione meno stabile rispetto a un lavoratore dipendente, e quindi poi, dopo, quando vai a interfacciarti con il mondo esterno, dall'accesso al credito, potresti avere delle difficoltà. Dico un'ultima cosa in chiusura, è anche vero che, come dicevo prima, spesso non è una scelta, è vero che ci sono degli incentivi, però i datori di lavoro dicono che questi incentivi e le assunzioni durano per tre anni, quattro, cinque anni e dopo cosa succede? Siamo il paese con il più alto costo del lavoro in Europa e quindi questa è una cosa che i datori di lavoro tengono in considerazione nella decisione di assumere, che non è una decisione che ha un orizzonte temporale di qualche anno, ma di molti anni. Anche perché investi comunque sul dipendente, quindi devi fare una scelta e devi essere davvero messa nelle condizioni, sia tu appunto lavoratore, sia tu datore di lavoro, di fare la cosa migliore per entrambi, invece a volte sembra di cascare in un cortocircuito. Secondo me da quello che hai detto sono emersi due, c'è una parola che hai usato tanto spesso, che è stato conviene. Secondo me questo è un tema quasi di, lo chiamo doping finanziario, nel senso che conviene perché in tasca effettivamente ti arrivano più soldini, però una cosa che vorrei un attimino anche, come dire, analizzare con Leonardo, perché questa cosa della convenienza potrebbe essere apparente. Io mi occupo della parte pensionistica, quindi noi parliamo tutti i giorni, con giovani che non hanno la minima idea dell'impatto che il fatto di pagare meno a livello di contributi, perché banalmente un dipendente paga il 33%, ma non tutto di tasca sua, la partita IVA paga mediamente un 25-30%, quindi comunque un po' meno, ma non si ha idea di che cosa voglia dire questo per il nostro futuro. Ci sono a volte degli sconti contributivi, ti chiama il commercialista e ti dice ah puoi pagare meno, e tu cosa dici? Ovvio! Vedi, da partita IVA posso pagare meno. E quindi questa convenienza potrebbe magari essere relativa. E dall'altro lato una cosa, secondo me, di cui avevamo parlato anche nella chiacchiera che ci siamo fatti prima di questo momento, è il tema della ok, sono a partita IVA, benissimo, ho i miei clienti, ma c'è un tema di quasi imprenditorialità, cioè bisogna anche poi sapere che se hai la partita IVA, o se accaschi magari nel tema del finto dipendente, quindi un cortocircuito, oppure se invece fai davvero il freelance, caspita, devi sapere che devi anche organizzarti sulla parte commerciale. Quindi, Leonardo, questo è, ne parlavamo prima, poi con te volevamo vedere un attimo il pro e contro di essere dipendenti, ma partirei da questi spunti, no? Partirei da queste, vedete, sono proprio delle incongruenze che si trovano tra una posizione e l'altra. Certo, va bene, innanzitutto grazie per l'invito e ciao a tutti. E sì, il tema è molto importante, nel senso come ci dicevamo prima, magari ci sono casistiche dove sei una finta partita IVA, quindi non ti devi, tra virgolette, preoccupare di fare il piccolo imprenditore perché oggettivamente stai facendo il dipendente, però con un contratto diverso. Però ci sono molti casi che, ad esempio, noi come startup vediamo, no? Quando stiamo iniziando ad aprire un po' di posizioni e vediamo tanti ragazzi e ragazze nel mondo IT, digital, che hanno proprio preso questa decisione di fare i freelance. Nel senso, beh, sicuramente coraggiosi e bravi perché, come diceva Clara, comunque magari è anche un po' di spirito imprenditoriale, una prima esperienza per poi magari provare a fare un'azienda vera, però c'è il tema del fatto che non hai la sicurezza, cioè se tu esci dall'università o magari da un corso di formazione perché non hai detto che tu debba studiare per aprire la partita IVA e ti sei specializzata in un campo, sei sicura che avrai clienti giusti al momento giusto, che ti porteranno il fatturato giusto per poi arrivare ad avere i tuoi vantaggi fiscali? Questo è un bel punto interrogativo perché alla fine sei un imprenditore e devi fare del commerciale, a meno che non hai creato un buon network prima di prendere questa decisione, quindi sai già che durante l'anno magari avrai i tuoi 3-4 clienti che ti porteranno il fatturato, a quel punto ha senso ragionarci sulla scelta, ma se ti butti a capofitto così, secondo me potrebbe essere un errore, poi dipende, ci sono casi soggettivi. Secondo me tanti anche si schiantano per questo motivo e poi dicono no, allora basta, vado a fare il dipendente che a me ho il posto fisso, mi prendo la mia busta, lavoro con le otto ore, ma in realtà non è sempre così, nel senso come sappiamo fare il dipendente ti dà tante certezze, ovviamente poi l'Italia è un po' il paese del posto fisso, quindi ce l'abbiamo proprio di tradizione questa cosa qui, esatto, quindi sicuramente tante tutele, hai molte più garanzie, non a caso chi ci ha ascoltato appunto se ha seguito il forte flusso di licenziamenti delle big tech nell'ultimo periodo, diciamo l'Italia è stata quella meno impattata perché abbiamo comunque dei contratti nazionali del lavoro e dei sindacati che tutelano tantissimo il lavoratore. Il discorso qual è? Che però ci sono alcuni fattori che vanno considerati, se ti trovi a lavorare come dipendente nel posto sbagliato però magari avrai un capo che oggettivamente con la scusa della gavetta non rispetta il contratto di lavoro, magari le tue otto ore diventeranno dodici, quindici, se non anche i weekend. Anche i colleghi perché non necessariamente il capo, penso che a volte sia anche un tema culturale, siamo abituati ma questo vale sia un po' nel freelance diciamo nel mondo per esempio delle professioni, mi viene in mente l'avvocatura, adesso non voglio parlare di luoghi comuni però sono sicura che chi ci ascolta sa che effettivamente ci sono dei fenomeni che si ripetono nel mondo delle professioni classiche quelle che ti vedono come professionista ma quasi quasi questa cultura poi arriva anche nel mondo delle aziende. Sì, sì, a volte c'è, poi ripeto anche questo secondo me è una caratteristica molto peculiare dell'Italia perché io ho lavorato all'estero e assolutamente nessuno fa la battutina se alle sei ti alzi dalla scrivania e ti dico ah ti è caduta la penna vai via no, in realtà perché comunque all'estero c'è un'altra mentalità in Italia per fortuna stiamo portando quello che c'è di buono nel mondo fuori diciamo dal nostro confine però sì ci sono ancora queste casistiche secondo me ripeto vabbè una soluzione è anche dimostrare che comunque si lavora ad obiettivi quindi anche come dipendente secondo me se sei in un ambiente tra virgolette tossico chiamiamolo così fin quando puoi spingere e far vedere che raggiungi comunque degli obiettivi lì comunque tra virgolette li puoi mettere a tacere però non è sempre facile perché dipende sempre dai colleghi che hai e dall'ambiente in cui lavori però ci sono tutte le tutele come dicevamo prima i contributi ti vengono versati dal datore di lavoro hai il TFR e tu sei benissimo il vantaggio di crearti un fondo pensione oltre a quella statale hai anche i soldi gratis da parte del datore di lavoro se sei un dipendente perché magari ci sono i fondi quelli del tuo CCNL che lo prevedono tanti giovani non lo sanno informatevi anche su questo esattamente hai assicurazioni cioè ci sono ormai quasi tutti i CCNL prevedono una assicurazione obbligatoria per i dipendenti ma ci sono anche quelli che prevedono un'assicurazione complementare e molti datori di lavoro stanno sposando comunque queste diciamo queste iniziative di welfare senza considerare poi tutti i benefit che al giorno d'oggi noi con Fannyfin lavorando nel mondo del well-being quindi ci rivolgiamo alle aziende soprattutto quelle più all'avanguardia che stanno mettendo finalmente al centro il benessere del dipendente e il tema del benessere finanziario è uno dei principali perché è la principale causa di stress del dipendente ti danno tantissimi benefit autoaziendale piuttosto che appunto servizio di psicologia H24 hai non so buoni pasto hai tantissimi benefit che da partita IVA oggettivamente non hai o devi pagarti di tasca tua però come sempre non è che vince uno vince l'altro l'importante è sapere devi sapere i vantaggi di una e dell'altra come in ogni scelta alla fine e poi essere anche abbastanza fortunato ripeto se scegli la seconda di fare il dipendente in che tipo di azienda in che territorio vai a lavorare perché abbiamo ancora delle discrepanze comunque a livello anche territoriale e di settore soprattutto industriale poi una cosa interessante che avevo visto dei dati che avete raccolto voi di Fannyfin è proprio quanto il tema finanziario impatti sul dipendente poi magari vediamo anche quanto impatta su una partita IVA quanto i freelance sentano il tema del sapersi giostrare nel mondo prima di tutto della finanza personale vuoi raccontarci un po' che evidenze avete riscontrato andando nelle aziende parlando con le persone sì allora diciamo che noi abbiamo raccolto dati sicuramente che hanno ad esempio uno dei report che utilizziamo è uno degli ultimi report proprio sul financial well being che ha lanciato PwC e dimostra come in questo report come il 44% dei dipendenti in azienda risulta distratto da preoccupazioni finanziarie e fanno perdere in media tre ore a settimana al dipendente o alla dipendente diciamo di produttività per chi ha queste preoccupazioni finanziarie noi oggettivamente le abbiamo anche convalidate parlando proprio con i nostri primi clienti o con le aziende con cui stiamo provando a chiudere delle partnership ed effettivamente ci sono tantissime preoccupazioni che è il dipendente in primis parto da un dato cioè nel senso sappiamo benissimo la situazione degli stipendi in Italia l'abbiamo accennata poco fa sicuramente il primo problema è che rispetto al rapporto con il costo della vita non abbiamo un buon balance ed è questo è risaputo e lo confermo nel senso è così però comunque ciò non toglie che anche i dipendenti hanno comunque delle abitudini finanziarie anche talvolta sbagliate dettate proprio dalla mancanza di educazione finanziaria quello che vi citavo prima ad esempio è allarmante come quanti direttori e direttrici di risorse umane ci dicono quando parliamo nella prima call conoscitiva voi non potete capire quanti dipendenti sovraindebitati abbiamo in azienda ci arrivano pignoramenti dello stipendio cartelle sattoriali perché i dipendenti ad esempio non sanno purtroppo leggere un contratto di finanziamento e non sanno neanche valutare se è necessario fare quel finanziamento oppure no il cosiddetto concetto di debito cattivo poi parliamo vabbè il tema delle pensioni sicuramente come voi lo fate benissimo nel senso arrivano soprattutto i giovani quello che stiamo vedendo è che si vogliono informare cioè rispetto a prima che magari c'era tantissima fiducia nei confronti di chi magari gestiva il tuo denaro il tuo consulente in banca eccetera oggi c'è meno fiducia e quindi il giovane lavoratore prima di firmare quel famoso modulo nei sei mesi TFR2 dove lo mettiamo vuole informarsi e vuole capire effettivamente i vantaggi di una o dell'altra scelta sai su cosa sono un po' non scettica ma un po' preoccupata perché ho visto anche io risultati di survey parlando con le persone e abbiamo chiesto alle persone ok abbiamo capito che ti stai informando ma agisci o non agisci quello che un pochino e infatti qui chiederei a Clara anche perché 2Sense penso sia un punto di riferimento veramente importante il vostro canale Instagram che ritengo sia la vostra vetrina parla chiaro di che tipo di comunicazione avete con i giovani e quindi si capisce che sicuramente interagite con loro quindi la mia preoccupazione barra domanda è ma questi ragazzi che poi sentono il bisogno di informarsi anche perché diciamocelo le generazioni dei vostri e miei genitori sono state un po' delle capre dal punto di vista finanziario non ci hanno aiutato tanto ok si sono trovati anche loro con dei patrimoni li hanno gestiti un po' diciamo navigando a vista ma noi ci sentiamo un po' spesati la generazione Z e la generazione T secondo me hanno capito che non vogliono cadere in questo errore e quindi cosa ci dicono vogliono informarsi ma poi riescono ad agire quali sono i temi che portano di più allora hai detto bene secondo me le generazioni la generazione Z insomma la generazione T hanno le idee molto chiare nel senso che magari tante cose non le sanno però hanno molto chiaro che non vogliono finire a gambellaria quindi c'è innanzitutto un approccio molto più aperto ai temi della finanza personale c'è questo trend va molto su TikTok forse l'avrete intercettato del va di moda dire no io questa sera non voglio uscire perché non non ci sto dentro con le spese essere vocali nel dire io ho il mio budget io ho le mie spese questa cosa non me la posso permettere buttiamo giù questo tabù parliamo anche di soldini è un grande tabù e la generazione Z questa cosa la sta un po' superando nel senso che non è assolutamente non è considerato da sfigati dire che non ti puoi permettere una cosa anzi quindi sicuramente c'è un approccio diverso ma si verbalizza anche questo è molto è una cosa veramente positiva perché adesso io invece sono un millennial puro perché sono dell'85 dico che ai miei tempi che orrore dire questa cosa però qualche tempo fa se non uscivi non dicevi il perché di sicuro non era commentavi una scusa bravissima e non si parlavano mai di soldi perché sembrava parlare di soldi vuoi dire quanto guadagni e invece adesso adesso se ne parla e secondo me è anche grazie a tutta l'apertura che c'è stata a partire dai social di tutte le nostre iniziative comunque qualcosa stiamo stiamo muovendo su quello che porta il giovane all'azione secondo me dipende tanto dalle opportunità di agire che hai nel senso che io posso anche essere una persona che è super preparata si fa il suo budget però se il mio stipendio è di 800-900 1000 euro al mese magari mi arriva un mese sì un mese no perché mi fanno uno stage e poi dopo mi lasciano a casa lì poi anche c'è poco spazio per dire ok mi informo mi impegno mi informo su un determinato fondo pensione per esempio però una volta che c'è un accesso all'informazione si hanno i mezzi per poter prendere delle decisioni secondo me è una generazione che è molto più portata a prendere in mano il controllo le redini della propria finanza personale e essere responsabile in questo senso quindi io sono molto fiduciosa beh molto bene perché andiamo verso la consapevolezza poi appunto fortunatamente ci sono iniziative come le vostre che anche proprio parlano alle persone ma mi senti dire anche lui stesso esatto adesso ce la cantiamo tra di noi però davvero la nostra missione è quella penso di tutti noi quello che condividiamo è arrivare a dare alle persone qualcosa che le aiuti in termini di consapevolezza perché non esiste giusto e sbagliato anche sul tema dipendente partita IVA dobbiamo saperlo l'importante è seguire quello che secondo te in quel momento avendo valutato avendo avuto accesso alle informazioni è la scelta migliore per te una cosa che aggiungo però perché sennò sembra che siamo tutti bravi è che comunque ci sono delle zone d'ombra nel senso che molto spesso si è portati all'azione ad esempio tra le nuove generazioni arriva molto la figura del fin influencer quindi se c'è una persona che io seguo sui social paradossalmente mi fido molto di più di quella persona che di un consulente finanziario di fiducia per esempio quindi questo ovviamente spora dei rischi perché se seguiamo i consigli di Anna e di Ciao Elsa siamo in ottime mani ma se arriva il fin influencer che ti dice diventa milionario con due click così c'è stata una questione riguardo i social sono pieni di queste figure quindi è bello che le nuove generazioni riescano ad appassionarsi al tema attraverso i social attraverso queste figure però mi sento di dire anche occhio assolutamente bisogna sempre capire di chi ci si può veramente fidare e quindi forse un po' di diffidenza c'è da parte di queste generazioni allora io vi dico che Clara non sapeva che la prima puntata perché non l'ha ascoltata ancora la registrazione la prima puntata avverteva proprio col presidente del CODA con sé con Raffaella Grisafi proprio su questo tema cioè attenzione bellissimo che abbiamo queste iniziative ma correte a vedervi la prima puntata perché lì avete anche proprio degli spunti pratici per saper riconoscere quello che è un'iniziativa verticale in ambito finanziario che vi dà spunti pratici che vi dà anche penso a Fanny che ti dà anche proprio un'opportunità pratica poi magari ci racconti perché mi piacerebbe che lasciassimo comunque i nostri ascoltatori con un qualcosa di molto concreto su cosa si può fare e quindi un conto è dare informazioni e dare strumenti in maniera certificata anche con tutte le cautele e le autorizzazioni del caso un altro discorso purtroppo è che appunto come sapete i social sono un ambiente dove rischi di perderti e quindi mi raccomando occhio alle fonti ancora una volta e quindi dai passiamo al pratico che così lasciamo i nostri chi ci ascolta con qualcosa cosa si può fare cosa suggerite a un giovane d'oggi in ambito finanziario per poter avere informazioni ma anche fare qualcosina domani mattina vi svegliate? bella domanda allora nel senso mi collego per rispondere un po' a quello che diceva Clara prima nel senso se sei in una situazione dove tu purtroppo e ce ne sono tante vedi noi adesso stiamo registrando questo podcast in una location che è a Milano e Milano comunque è una città molto costosa e purtroppo gli entry level anche se sono laureati eccetera comunque oggettivamente hanno delle ral basse e quindi ci sono delle situazioni dove è oggettivamente difficile farlo però se tu inizi quello che mi consiglio cioè quello che consiglio di fare è iniziare comunque a pianificare cioè magari ad oggi tu non riesci a metterti da parte neanche 50 euro perché è giusto così perché se ne guadagni 1.4 devi pagarne 800-900 di affitto devi mangiare quindi fare una spesa magari sei fuori sede vuoi tornare una volta a casa e prendere un treno hai finito i tuoi soldi cioè quindi non sto dicendo che vai quindi però il consiglio è iniziamo a pianificare nel senso quali sono oggettivamente già da oggi le spese necessarie e quelle meno necessarie perché c'è anche da dire mi ricollego a quello che diceva prima Clara siamo una generazione che si sta informando tanto però una parte ha ancora difficoltà a privarsi a fare un po' di sacrifici cioè quello che sto notando quando parlo io vedevo i miei genitori cioè comunque hanno fatto uno stile di vita completamente diverso dal mio quello dei miei fratelli eccetera non facevano tutti i viaggi che abbiamo voluto fare noi in 30 anni di vita non andavano appunto all'aperitivo a cena avevano uno stile di vita completamente diverso ora non dico che noi non dobbiamo più fare quelle cose lì perché siamo nati in quest'era e quindi le devi fare però appunto privarsi ogni tanto quindi fare proprio un budget è la goccia nel tempo esatto cioè quella goccina che magari oggi sono 20 euro al mese domani ne diventano 40 dopo domani diventano 60 però avere un metodo un po' come quando vai all'università se inizi a studiare con un metodo alla fine poi al terzo anno della trennale ormai c'è quel metodo e gli esami li fai quello mi consiglio di fare cioè anche con poco iniziare a pianificare qualcosa informarsi per poi nel momento in cui arrivi allo step successivo e cioè dici ok prendo più soldi ho uno stipendio più alto sai già cosa devi fare benissimo non ho potuto fare un fondo pensione perché prima non ce la facevo non ci stavo dentro a versare il 3% della mia rally in un fondo pensione cosa puoi fare? ti sei già informato hai già una scelta chiara per dirti quindi questo è il mio consiglio iniziare a farlo un po' come se fossero soldi del monopoli in fase iniziale però poi dopo una volta che c'hai i mezzi per farlo sei già pronto quindi Leonardo ci dice non procrastinate no esatto nel piccolo comunque fallo anche se un euro al mese inizia a risparmiarlo inizia a gestirlo con cautela poi tra dieci anni si spera diventino cinquemila sei mila euro al mese e tu stai parlando ai noi stessi del futuro quindi mi sento di chiedere a Clara che appunto voi parlate con anche ragazzi molto molto giovani come poterli aiutare su questo? allora ho tante cose da dire perché io ci sono passata in primis e ve lo dico io ero veramente pessima nella gestione dei miei soldi quindi so benissimo che cosa vuol dire allora innanzitutto volevo dare un consiglio a chi deve scegliere ad esempio se fare freelance o dipendente visto che abbiamo parlato quello che è provate a immaginarvi la vostra giornata tipo e soprattutto cioè mettetevi lì carta e penna o al tablet o comunque vogliate e proprio cioè praticamente immaginatevi passo dopo passo che cosa vuol dire fare questa cosa perché è l'unico modo per capire veramente qual è la cosa migliore per voi quindi nel caso del freelance voi dovete nel momento in cui aprite la vostra partita IVA dovete già sapere ok poi cosa faccio da chi vado a chi chiedo con chi parlo è importantissimo poi anche fare tante domande sembra un consiglio banale però io lo so benissimo perché la mia generazione tende a dire ok me la cavo da solo invece no chiedere non è mai sbagliato e non bisogna avere paura di sembrare stupidi io vi assicuro che tutte le volte che voi avete una domanda intorno a voi ci sono almeno verbalizzate anche quella verbalizzate il tema dei soldi verbalizzate i dubbi che avete perché è veramente fondamentale poi sulla gestione dei soldi innanzitutto mi sento di dire una cosa non siate troppo duri con voi stessi nel senso che è giustissimo non procrastinare imparare a farsi un budget darsi degli obiettivi però ad esempio io ho fatto così il primo anno che avevo un lavoro stabile ho speso tutto non ho risparmiato niente mi sono fatta il viaggio che avrei voluto fare da sempre e che non avevo mai il viaggio di nozze col lavoro esatto il viaggio io mi sono detta non mi sono mai potuta permettere delle cose troppo estravaganti perché appunto io ho sempre lavorato per fare l'università insomma quindi mi sono data questo anno di follia e devo dire che mi ha fatto bene quindi mi sento di dire non siate troppo duri con voi stessi se dovete spendere per i primi i primi stipendi spedeteli si dai si può dire non ce ne hanno esatto ragazzi anche il tfr avete sei mesi per scegliere no scherzo non devo dire queste cose se non mi uccido l'altra cosa che voglio dire è una regola che mi ha salvato nella mia gestione del mio budget mensile il risparmio dovrebbe essere la prima cosa che fate appena arrivo allo stipendio non l'ultima perché quello che facevo io era arrivare allo stipendio io spendevo facevo le mie cose e alla fine quello che rimaneva risparmiavo spoiler non rimaneva mai niente il risparmio deve essere la prima cosa che voi fate calcolate qual è la quota che è sostenibile per voi ovvio se prendete mille euro al mese ci sta che non riusciate che facciate fatica però quando iniziate ad avere gli stipendi un po' più alti appena arriva lo stipendio ora con le app si può fare tutto cioè voi potete letteralmente fare un calcolo di quali sono le vostre spese mensili tipo ad esempio quello che faccio io è mettere tutto io ho un conto a parte in cui metto io so che spendo ogni mese quel tot e quello è quello che io metto da parte e nella mia testa so che appena arriva lo stipendio pago tutte le cose che devo pagare metto da parte il risparmio la quota di risparmio ottimale l'obiettivo che mi sono data e so che per tutto il mese non lo tocco più salvo che ci siano delle emergenze ovviamente questo è il consiglio che ha svoltato la mia gestione delle finanze quindi mi sento di condividerlo con chiunque ci stia ascoltando però veramente non siamo troppo duri con noi stessi cioè informiamoci cerchiamo di essere consapevoli perché veramente un anno in più un anno in meno fa differenza cioè possiamo dirlo iniziare a investire anche quel poco oppure veramente è facilissimo se non ve la sentite di fare un investimento approcciando appunto il mondo dei consulenti finanziari se avete la fortuna di avere un contratto di lavoro dipendente il fondo pensione è la cosa più semplice che voi potete fare e non ti accorgi non te ne accorgi neanche quindi è giusto essere consapevoli però concediamoci di fare le cose un po' poco alla volta no no assolutamente nel senso quello che dicevo un po' prima è vero che siamo diversi dalla vecchia generazione però cioè è fondamentale non privarsi di diciamo delle nostre abitudini dei nostri piaceri valutare lì al massimo qualche sacrificio si può fare però appunto se hai iniziato a lavorare è giusto che il primo anno di sacrificio te li godi e magari poi dal secondo anno inizi a pianificare eccetera bene io che qui sono la saggia aggiungo solo una cosa per cui bellissimi questi consigli finali di non procrastinare quindi qualcosa fatelo ma e anche di ragazzi imparate a capire che il risparmio non è quella roba lì che vi resta alla fine prendete il vostro reddito togliete i costi fissi che giustamente le bollette vanno pagate i mutui vanno pagati però poi datevi un obiettivo di risparmio importantissimo io che ho qualche anno in più di loro posso portare la mia esperienza e dirvi quanto è importante prendere quella quota di risparmio e darci un nome appiccicarci una foto sopra qualunque essa sia ma datevelo un obiettivo perché così a qualcosa di concreto arrivate anche nella scelta dipendente partita IVA dite cos'è che voglio raggiungere per me che tipo di anche sensazioni come mi voglio sentire quando vado al lavoro partite dall'obiettivo e vedrete che poi scrivendo sulla carta pro e contro di tutte le cose troverete la vostra la vostra soluzione sono molto contenta perché anche questa puntata è stata estremamente concreta quindi ragazzi vi ringrazio noi ci vediamo alla terza puntata Leonardo e Clara li salutiamo è davvero stato un bellissimo salotto e una bella chiacchierata con tante cose concrete per voi alla prossima grazie ciao grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti